Se ti è stato detto che soffri della sindrome del piriforme oppure hai dolore al gluteo, alla coscia, al polpaccio oppure al piede, questo video ti sarà utile perché ti spiegherò che cos'è la sindrome del piriforme e che cosa puoi fare per cominciare da oggi a migliorare i sintomi dati appunto da questa sindrome. Sono Francesco Lanzini, fisioterapista e fondatore di Fisiosocial e se vuoi migliorare il tuo benessere generale ti invito a iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i nostri nuovi contenuti. Partiamo, dunque il muscolo piriforme è un muscoletto che prende il nome di piriforme perché ha forma di pera e parte dall'osso sacro e si inserisce a livello del femore. Quando nella maggior parte dei casi il nervo sciatico che è il nervo più lungo della gamba passa vicino al muscolo piriforme oppure invece in una minor parte passa proprio attraverso il muscolo piriforme che può essere rigido è possibile che il nervo sciatico venga infastidito da questo muscolo piriforme e che dia dolore appunto a livello del gluteo, della gamba oppure del polpaccio. Quindi come si fa a distinguere se abbiamo una sindrome del piriforme oppure una sciatalgia quindi il sintomo dato dal dolore al gluteo, dolore alla gamba, dolore al polpaccio che è dato invece da un'altra causa. Possiamo distinguere un'altra causa come potrebbe essere l'ernia perché? Perché l'ernia dà anche un dolore alla bassa schiena. Infatti l'ernia parte a livello appunto lombare quindi della bassa schiena e il dolore in caso di ernia parte a livello della schiena per poi scendere. Se hai una sindrome del piriforme quindi non avrai un dolore alla bassa schiena. Cosa bisogna fare se si soffre di sindrome del piriforme? Andare a fare degli esercizi che servono sia per rinforzare il muscolo che per andare ad allungarlo. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di rendere il muscolo piriforme forte ed elastico invece che debole e rigido. Poi ti mostrerò anche un esercizio per andare a dare un pochino di scorrimento al nervo sciatico che si chiama un esercizio di neurodinamica che servirà per diminuire la sensazione di dolore. Quindi in questo video vedrai due esercizi di rinforzo, un esercizio di stretching e un esercizio di neurodinamica. Prima di passare gli esercizi ti chiedo di lasciarci un like se il video fino ad ora ti è piaciuto oppure di lasciarci un commento qua sotto per chiederci un'informazione se sei interessato a questo video. Partiamo! Il primo è un esercizio di rinforzo che è l'esercizio del ponte. Dunque per far questo primo esercizio ti metti sdraiato, non è necessario stare per forza per terra, puoi farlo anche su un letto, ok? Mani appoggiate a terra e vai su con la schiena, ok? Sentirai che i glutei, quindi i muscoli appunto dei gluti tra cui il piriforme si contraggono, si contrae anche la bassa schiena e porti giù. Vai di nuovo e porti giù. Vai di nuovo e porti giù. Ripeti questo esercizio per 12 volte per tre serie. Per questo secondo esercizio puoi usare un elastico, piedi uniti e ginocchia piegate. L'elastico è appena al di sopra delle ginocchia, ok? Quindi più ovviamente l'elastico è stretto più farò fatica. Vado a ruotare in fuori, ruoto in fuori, mantengo per due o tre secondi e torno su. Vado scendo, ruoto in fuori e torno su. Lo faccio lentamente così il muscolo ha più tempo per lavorare e torno su. Ripeto per otto volte per quattro serie. Andiamo ora a fare un esercizio di allungamento. Questo è un esercizio semplice di allungamento del muscolo piriforme. Vai a farlo in questo modo. Ginocchio piegato e vai a portare verso l'alto e avvicinare il ginocchio, ok? Mantieni questa posizione che dovrebbe già darti tensione a livello del gluteo per una trentina di secondi e ripeti l'esercizio per tre o quattro volte. Poi torni e giù. Quindi il movimento è flessione verso l'alto e porto anche verso l'interno. E se non hai ancora lasciato il like questo è il momento di farlo perché ho deciso di darti cinque esercizi invece che quattro. Quindi ti faccio vedere un'altra versione di stretching perché se non hai sentito tensione nell'esercizio precedente puoi fare questo che è ancora più selettivo sul muscolo piriforme e un pochino più difficile. Quindi ginocchia piegate, vado a accavallare la gamba che voglio allungare, ok? Più è ruotata in fuori più sentirò tirare, più è verso l'interno meno tirerà, ok? Quindi ruoto bene, prendo, è possibile che alcuni già sentano tensione a questo punto, poi prendo la gamba opposta e vado a portare verso l'alto, ok? Porto verso l'alto, la tensione a livello del gluteo destro nel mio caso, quindi il gluteo della gamba che è accavallata, inizierà a tirare di brutto. Io adesso lo sto sentendo, ok? Sempre 30 secondi per tre o quattro volte. Ovviamente io ti consiglio di farlo da tutte e due le parti. Andiamo invece ora a vedere un esercizio di neurodinamica, quindi di scorrimento del nervo sciatico. Parti sempre da questa posizione, ok? Porti il ginocchio che vuoi far lavorare a 90 gradi, quindi direi non di più, non più di 90 gradi, ma a 90 gradi. Mani sotto, il piede a martello, ok? E porti verso l'alto. Quando arrivi a questo punto in cui senti un po' di tensione puoi distendere il piede e riportare su, ok? Quindi più il piede è a martello e più è su la gamba, più sentirò tensione. Quindi a questo punto qua vado e torno. Faccio 10 di questi movimenti e ripeto per tre o quattro volte. Attenzione che se sento dolore non va bene, quindi se sento dolore non passo l'esercizio successivo, ma salgo un po' di meno, ok? Salgo un po' di meno e faccio sempre il mio esercizio. Benissimo. Se sento dolore non va bene, se sento fastidio oppure un'ombra di dolore va benissimo. Quindi scendo un pochino e vedo quando lo riesco a sopportare. Spero che il video ti sia stato utile, che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti rinvito a iscriverti al nostro canale e se vuoi essere seguiti in modo approfondito da me o da Klaus puoi richiedere una consulenza a distanza con noi cliccando il link qua sotto, nella quale ti faremo una chiamata per seguire bene quali sono le cause e le dinamiche del tuo problema e dopodiché costruiremo un programma specifico per il tuo caso. Ciao e alla prossima!